Ciao a tutti da Christian TJ, il salutatore del blog, la bellissima e bravissima Linda Battista che è una sorpresa per tutti noi. Sì, sì, sono contenta di essere con voi questa sera. Salutiamo tutti gli utenti di YouTube, Facebook, MySpace. Tenete sempre formate, è una bellissima cosa. Ti ringrazio Linda, buon proseguimento. Grazie, ciao, ciao.